Buongiorno, buongiorno di... this one oju'dore... buongiorno di leaning up somebody up, so why don't you stand up? i dont know how long and long coming, you think, big jump? nahi,�� you come to me to tell meg mainly she is going to do so fresh, mündi Sì, non ci siamo più pronti qui. Tui qui oggi è? Maherani, lei è stata una volta alle domande e lui anche lui ha guardato il padre. Maherani è un'azienda con la trucazione e lui ha detto in questo momento è un po' di chocco che fa. Sì, non è vero che l'esercito? Sì, lo so che la la tua vita è in questo momento. È ancora più grande. qui si c'è un colore si pensi in un colore non c'è un colore prima di andare prima di andare non c'è un colore non c'è un colore le Donisca se si ne in un colore si abbiamo sempre che fai un colore guarda un colore è un colore come? Oh! Ok? Ha, vai! 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 Right here. Ok? 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 Sì, non è vero. non c'è un po' che siamo riusi? Iscriviti a voi qui? Iscriviti a chi?